Tra i vertici delle autoriti che prenderanno parte all'incontro organizzato da Consumers Forum c'è Stefano Besseghini, presidente di Arera. Presidente Besseghini, il recovery plan è una grandissima opportunità, probabilmente irripetibile per il rilancio dell'economia italiana. Come si può evitare che ci siano ricadute penalizzanti per i consumatori? Credo che quello che si deve avere sempre presente è che il meccanismo di tutela dei consumatori esiste e funziona anche con qualche efficacia da tempo. Gli interventi che il PNRR prefigura sono tutti grandamente interventi di natura infrastrutturale che dovrebbero migliorare l'assetto complessivo dei servizi rispetto a cui il consumatore agisce, interagisce e quindi credo che in realtà un'applicazione quasi ordinaria degli strumenti che abbiamo dovrebbe impedire elementi distorsivi. C'è una grande attenzione anche all'altra gamba che non si deve dimenticare del PNRR, che non è quella solo degli investimenti ma quella delle riforme. Allora lì è importante cogliere tutte quelle opportunità che ci sono invece di miglioramento dei meccanismi di funzionamento di alcuni sistemi di governance ad esempio oppure della trasparenza nei confronti del consumatore che possono non creare dei rischi ma anzi migliorare e rinforzare le opportunità di tutela del consumatore. Le associazioni dei consumatori sono particolarmente sensibili su alcuni fronti e ne cito due, il carobollette e il mercato libero. Ora il discorso sarebbe lungo e questa è solo una breve intervista, poi approfondiremo questi e altri temi il 30 novembre, ma intanto facciamo in tempo a rassicurarli con due telegrammi, due brevi tweet. Allora intanto sicuramente il tema del caro energia è un tema importante e gli elementi che sono stati messi a disposizione dei consumatori per cercare soprattutto nei confronti dei consumatori più vulnerabili di avere un impatto minore rispetto a queste variazioni che sembrano congiunturali e che quindi dovremmo conoscere per un periodo di tempo relativamente limitato, sono un po' gli schermi, gli scudi se vogliamo che in qualche maniera ci accompagneranno in questo periodo. Altro tema è quello del mercato libero e del superamento del servizio di tutela, in realtà anche lui è uno strumento che bene implementato e ben utilizzato consente in qualche maniera di avere una tutela del consumatore nella misura in cui è in grado di fornire dei servizi e di fornire dei costi che sono confrontabili con le esigenze del singolo consumatore. Naturalmente richiede, dallo scotto diciamo così, al consumatore di attivarsi, di mettersi in una posizione di valutazione di quelle che sono le offerte del mercato e naturalmente mettere le condizioni del sistema di fare in modo che le offerte del mercato siano sempre chiare, trasparenti e sicure per il consumatore. Avremo modo di approfondire, intanto la ringrazio per la disponibilità e per la sintesi e le do appuntamento al 30 novembre. Grazie a voi.